ciao amici siamo arrivati a the monkey beach vedete abbiamo portato il cibo perché abbiamo fame in effetti non siamo noi che abbiamo fame perché come dice il nome we are the monkey beach so there are the monkeys i show you eccoci qui bravo luca e monkey prova a dare così no no egoista ecco qui le scimmie siamo nella spiaggia delle scimmie vai sweetie vai go fantastica vedete infatti le scimmie ci sono veramente guardate quante scimmie ci sono vedete guardate le scimmie bellissimo bellissimo cu help us to find some monkeys ok Luca is trying to say like a monkey not working la nostra barca lì stiamo solamente aspettando le scimmie che in questo momento stanno dormendo e quindi non ci sono noi gli abbiamo lasciato un paio di esche gli abbiamo portato una scatola intera di pane per fargli venire il colesterolo e le stiamo aspettando porca miseria dai 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 che vogliamo di nuovo nel paradiso terrestre siamo di nuovo questa volta abbiamo portato un sacco di pane e alle scimmie gli faremo venire un colesterolo mostruoso che neanche ne visco riuscirà a tirare vediamo guardate c'è 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 la miniscigna anche un colesterolo piccolo è oh robato fai un altro no ancora Cosa fai? C'è tutti e due, li vuole. No, è un pazzo. Amici, non c'è niente da fare, questo è un ingordo incredibile, sta mangiando come una bestia. Noi continuiamo, abbiamo un altro pane a manetta, colesterolo per tutti. Ehi, ci stiamo. E' più. Aspetta, ecco, perché vedete, 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 c'è il capo qui che sta mangiando, è un pazzo. Sta mangiando le banane. Un pane. No! No! Quella mi piace a te. Ah, vedi. Sta riprendendo? Sì. Che belli. Via, via di grande. No! Quello piccolino! Che è incredibile.